Numeri impietosi quelli del rapporto Svimez che si riferiscono al 2013. L'Italia si conferma un paese spaccato in due, diviso e diseguale con il sud che scivola sempre più nell'arretramento. A pesare sul divario le manovre della politica economica, i tagli alla spesa concorrono a penalizzare in maniera significativa l'economia del mezzogiorno già strutturalmente meno capace di agganciare la ripresa. Ed ecco che il prodotto interno lordo al sud crolla del 3,5%, facendo registrare segno negativo per il sesto anno consecutivo. Al centro nord il valore è di meno 1,4. Dal 2008 al 2013, gli anni della crisi, il sud ha perso il 13,3% contro il 7% del centro nord, con un divario del PIL pro capite tornato ai livelli di dieci anni fa. Nel 2013, mediamente al sud, ogni persona ha prodotto 16.888 euro contro una media nazionale di 25.457. La regione più ricca è stata la Valle d'Aosta, con 34.442 euro. La regione più povera è la Calabria, con 15.989 euro, uno scarto di oltre 18.000 euro a testa. Crolla l'occupazione del 9% a fronte del meno 2,4% del centro nord. Delle 985.000 persone che in Italia hanno perso il posto di lavoro, ben 583.000 sono residenti nelle regioni del sud. La fotografia che viene fuori dal rapporto Svimez è di un sud a rischio desertificazione industriale e umana, dove si continua a emigrare, a non fare figli e ad impoverirsi. In dieci anni, dal 2001 al 2011, sono migrate dal mezzogiorno verso il centro nord oltre un milione e mezzo di persone, di cui 188.000 laureati. Nel 2013, secondo il rapporto, al sud si sono registrate solo 180.000 nascite, un livello che ci riporta al minimo storico registrato oltre 150 anni fa durante l'Unità d'Italia. E per il futuro le stim prevedono una lieve ripresa dello 0,6%, con una crescita di più 1,1% al centro nord e una regressione dello 0,8% al sud. Previsioni di segno opposto anche sul fronte lavoro, meno 1,2% al sud nel 2014 più 0,2% al centro nord. Oltre 2 milioni le famiglie che si ritrovano nel 2013 al di sotto della soglia di povertà assoluta. Al sud, nel periodo 2007-2013, le famiglie assolutamente povere sono cresciute oltre due volte e mezzo, da 443.000 a 1.014.000, il 40% in più solo nell'ultimo anno.